era la vigilia di natale maria già da tempo stava russando sulla stufa nella lampada tutto il petrolio si era consumato ma fiodor nilov era ancora seduto a lavorare da tempo avrebbe lasciato il lavoro e sarebbe uscito ma il cliente del vicolo cocolni che due settimane fa gli aveva ordinato i tomai era venuto il giorno innanzi si era infuriato e aveva ordinato di terminare il lavoro assolutamente adesso prima della messa mattutina che vita da galera borbottava fiodor mentre lavorava alcuni dormono da un bel pezzo altri fanno baldoria e tu guarda come un caino qualsiasi sta qui a cucire sa il diavolo per chi per non addormentarsi senza volerlo ogni tanto traeva da sotto il tavolo una bottiglia da cui beveva a canna e dopo ogni sorso scuoteva il capo dicendo ad alta voce perché poi ditemi un po i clienti fanno baldoria mentre io sono obbligato a cucire per loro per il fatto che hanno i soldi mentre io sono un poveraccio odiava tutti i clienti soprattutto quello che abitava nel vicolo cocolni era questi un signore dall'aspetto tetro con i capelli lunghi il viso giallo con grandi occhiali azzurri e la voce roca aveva un cognome tedesco che non si riusciva a pronunciare che titolo avesse e di cosa si occupasse era impossibile capirlo quando due settimane fa fiodor si era recato a casa sua per prendergli le misure e lì il cliente era seduto sul pavimento e pestava qualcosa in un piccolo mortaio fiodor non fece a tempo a salutare che il contenuto del mortaietto improvvisamente scoppiò e prese fuoco con una fiamma vivida rossa si sentì il puzzo di zolfo e di piume bruciate e la stanza si riempì di un denso fumo rosa tanto che fiodor starnutì cinque volte e mentre dopo ciò tornava a casa pensava chi teme dio non si occuperà di cose del genere quando nella bottiglia non rimase più nulla fiodor posò gli stivali sul tavolo e si mise a riflettere appoggiò la testa pesante al pugno e cominciò a pensare alla sua povertà alla pesante vita priva di speranze poi ai ricchi alle loro grandi case alle loro carrozze ai loro biglietti da cento rubli come sarebbe stato bello se a loro che il diavolo riporti a questi ricconi fossero crollate le case fossero morti i le loro pellicce e i cappelli di zibellino avessero perduto il pelo come sarebbe stato bello se i ricconi si fossero trasformati poco per volta in accattoni che non hanno niente da mangiare mentre il povero calzolaio fosse diventato un riccone o si fosse comportato egli stesso con boria davanti a un povero calzolaio alla vigilia di natale mentre sognava così fiodor all'improvviso si ricordò del suo lavoro e aprì gli occhi che storia pensò esaminando gli stivali i tomai sono pronti già da tempo e io me ne sto seduto bisogna portarli al cliente avvolse il lavoro in un fazzoletto rosso si vestì e uscì cadeva una neve minuta dura che pungeva il viso come tanti aghi faceva freddo si scivolava era buio i lampioni a gas mandavano una luce fioca e chissà perché in strada c'era odore di petrolio tanto che fiodor cominciò a sentire plurito in gola e a tossire sul selciato i ricconi passavano avanti e indietro in carrozza e ogni riccone teneva in mano un prosciutto e un quarto di vodka dalle carrozze e dalle slitte le ricche signorine guardavano fiodor gli mostravano la lingua e gridavano ridendo a cattone a cattone pietra fiodor camminavano studenti ufficiali mercanti e generali e lo canzonavano ubriacone ubriacone al solaio senza fede anima da gambale a cattone tutto ciò era offensivo ma fiodor taceva e sputava solo quando poi gli capitò di incontrare il mastro calzolaio kuzma lebetkin di varsavia e questo gli disse ho sposato una donna ricca sotto di me lavorano gli apprendisti mentre tu sei un pezzente e non hai niente da mangiare fiodor non resistette e lo inseguì lo inseguì finché non venne a trovarsi nel vicolo cocolni il suo cliente abitava nella quarta casa a partire dall'angolo nell'appartamento all'ultimo piano per arrivare da lui si doveva percorrere un lungo cortile buio e poi arrampicarsi su una scala molto alta e scivolosa che traballava sotto i piedi quando fiodor entrò in casa il cliente come allora due settimane prima stava seduto sul pavimento e pestava qualcosa nel mortaietto vostra signoria vi ho portato gli stivali disse fiodor con aria cupa il cliente si alzò e si mise a provare gli stivali in silenzio desiderando aiutarlo fiodor si piegò su un ginocchio e gli sfilò il vecchio stivale ma balzò subito in piedi e indietra giù verso la porta spaventato il cliente non aveva un piede ma un zoccolo di cavallo eh pensò fiodor guarda che storia per prima cosa ci si sarebbe dovuto segnare poi si sarebbe dovuto gettare tutto e correre da basso ma subito capì che gli capitava di incontrare la forza impura per la prima e probabilmente per l'ultima volta in vita sua e sarebbe stato stupido non sfruttarne i servigi si fece forza e decise di tentare la fortuna tirate le mani indietro per non segnarsi tossicchiò rispettosamente e cominciò dicono che non ci sia cosa più immonda e peggiore al mondo della forza impura ma io invece penso vostra signoria che la forza impura sia la più istruita il diavolo scusatemi agli zoccoli e la coda di dietro in compenso ha più senno in testa di qualsiasi studente mi piace per queste parole disse lusingato il cliente grazie calzolaio che cosa desideri dunque e il calzolaio senza perder tempo prese a lamentarsi della propria sorte cominciò dal fatto che sin dall'infanzia aveva invidiato i ricchi era sempre passo offensivo che non tutte le persone vivessero ugualmente in grandi case e andassero su buoni cavalli perché si chiedeva era povero in che cosa era peggiore di kuzma lebetkin di varsavia che ha una casa propria e la moglie porta il cappello egli ha lo stesso naso le stesse mani le gambe e la testa la schiena che hanno i buoni allora perché gli deve lavorare quando gli altri fanno baldoria perché è sposato con maria e non con una signora profumata nelle case dei clienti ricchi gli capitava spesso di vedere delle belle signorine ma loro non gli rivolgevano la minima attenzione e solo talvolta ridevano e bisbigliavano che naso rosso ha quel calzolaio è vero maria è una donna brava buona lavoratrice ma non è istruita ha le mani pesanti e picchia sodo e quando capita di parlare di politica oppure di qualcosa di intelligente in sua presenza si intromette e dice delle stupidaggini tremende ma che cosa vuoi lo interruppe il cliente io chiedo vostra signoria diavolo ivaniz se lo potete di farmi diventare ricco volentieri solo che per questo mi devi dare la tua anima prima che il gallo canti va e firma su questa carta che mi consegni la tua anima vostra signoria disse gentilmente fiodor quando mi ordinaste i tomai io non vi chiesi dei soldi in anticipo prima si deve eseguire l'ordinazione e poi esigere i soldi d'accordo consentì il cliente nel mortaietto improvvisamente scoppiò una fiamma vivida si diffuse un denso fumo rosa e si sentì un puzzo di piume bruciate e di zolfo quando il fumo si diradò fiodor si stropicciò gli occhi e vide che non era più né fiodor né il calzolaio ma un uomo diverso con il panciotto e con la catenella con i pantaloni nuovi e stava seduto in poltrona a un tavolo due servitori gli porgevano le vivande facevano profondi inchini e dicevano buon appetito vostra signoria che magnificenza i servitori servirono un grande pezzo di montone arrosto e una scodella di cetrioli poi presentarono una padella con un'oca arrosto poco dopo carne di maiale lessata con il rafano e com'è tutto elegante cerimonioso fiodor mangiava e prima di ogni portata beveva un grande bicchiere di ottima vodka proprio come chissà quale generale o conte dopo la carne di maiale gli servirono il cascia con lardo e oca poi una frittata con lardo di maiale e il fegato arrosto ed egli continuava a mangiare e ad esserne entusiasta ma che altro c'era servirono ancora il pasticcio di cipolla e le rape lesse con il quass e com'è che i signori non scoppiano per tutto questo cibo pensava e per finire servirono un grande vaso di miele dopo pranzo comparve il diavolo con gli occhiali azzurri e chiese facendo un profondo inchino siete soddisfatto del pranzo fiodor panteleic ma fiodor non poteva pronunciare nemmeno una parola da tanto che scoppiava per il pranzo consumato si sentiva sazio e sgradevolmente pesante e per distrarsi si mise a esaminare lo stivale del suo piede sinistro per stivali simili non prendevo meno di sette rubli e mezzo quali calzolaio li ha cuciti chiese kuzma lebetkin rispose il servitore chiamate quello stupido ben presto comparve kuzma lebetkin di varsavia si fermò con una posa ossequiosa sulla porta e chiese che cosa desiderate vostra signoria taci fiodor e picco al piede per terra non osare discutere e ricordati della tua condizione di calzolaio che uomo sei imbecille non sei capace di cucire gli stivali ti pesto il muso perché sei venuto per il denaro vale denaro vattene torna sabato e tu buttalo fuori ma si ricordò subito che i clienti si befavano anche di lui e sentì un peso sul cuore e per distrarsi trasse di tasca un portafoglio gonfio e prese a contare il denaro di soldi ce n'erano molti ma fiodor ne voleva ancora di più il demonio dagli occhiali azzurri gli portò un altro portafoglio più gonfio ma ne volle ancora di più e più contava più ne era insoddisfatto la sera lo spirito maligno gli portò una signora alta pettoruta vestita di rosso e disse che quella era la sua nuova moglie fino a notte fonda continuò a baciarlo e a mangiare biscotti di pan pepato la notte si coricò su un piumino soffice ma continuava a rigirarsi da un lato e dall'altro e non riusciva ad addormentarsi era terrorizzato ho molto denaro diceva alla moglie i ladri potrebbero entrare in casa da un momento all'altro per favore va a dare un'occhiata con una candela egli non dormì tutta la notte alzandosi in continuazione per vedere se la cassa era intatta verso l'alba si doveva andare alla funzione del mattutino in chiesa tutti hanno la stessa dignità ricchi e poveri quando fiodor era povero in chiesa pregava così signore perdona me peccatore lo stesso diceva anche ora che era divenuto ricco che differenza c'era allora e dopo la sua morte il ricco fiodor sarà sotterrato non nell'oro non nei diamanti ma nella stessa nera terra come l'ultimo dei poveracci fiodor brucerà nello stesso fuoco dove sono anche i ciabattini a fiodor tutto ciò sembrava oltreggioso e per di più sentiva pesantezza in tutto il corpo per l'abbondante pranzo e invece delle preghiere gli venivano in mente diversi pensieri sulla cassa dei soldi sui ladri sulla sua anima venduta e perduta uscì di chiesa arrabbiato per scacciare i cattivi pensieri egli come spesso accadeva prima si mise a cantare a squarciagola ma aveva appena iniziato che si avvicinò a lui di corsa un poliziotto che disse facendo il saluto militare signore ai vostri pari non è permesso cantare per strada non siete un calzolaio fiodor si appoggiò con la schiena a uno steccato e si mise a pensare come distrarsi signore gli urlò un portiere non appoggiarti troppo allo steccato ti sporchi la pelliccia fiodor entrò in una bottega e si comprò la migliore armonica poi prese a camminare a suonare tutti i passanti lo indicavano con il dito e ridevano ed è pure un signore dove ridevano i vetturini proprio come un calzolaio ai signori è forse permesso far chiasso per strada gli disse il poliziotto ci mancherebbe solo che andate in una bettola signore fate la carità per l'amor di dio imploravano i mendicanti circondando fiodor da tutti i lati fate la carità prima quando era calzolaio i mendicanti non gli rivolgevano alcuna attenzione adesso non lo lasciavano passare a casa lo aspettava la nuova moglie la signora vestita con una camicetta verde e una gonna rossa egli voleva vezzeggiarla e aveva già alzato la mano per darle una pacca sulla schiena ma ella reagì con rabbia villa non so ticone non sai come ci si comporta con le signore se ami bacia la mano e non ti permetto di battermi vita maledetta pensò fiodor come vive la gente non puoi intonare una canzone non puoi suonare l'armonica non puoi scherzare con la tua donna si era appena seduto a bere il tè con la signora e comparve lo spirito maligno dagli occhiali azzurri che disse ebbene fiodor pantaleis ho fatto la mia parte come si deve adesso firmate la carta e seguitemi ora sapete cosa significa vivere da ricco quindi basta e trascinò fiodor all'inferno direttamente nel fuoco e i diavoli accorrevano da tutte le parti e gridavano sciocco imbecille asino all'inferno c'era un puzzo tremendo di petrolio da soffocare e all'improvviso tutto scomparve fiodor aprì gli occhi e vide il suo tavolo gli stivali e la lampada di latta il vetro della lampada era nero e dalla fiammella dello stoppino si spandeva un fumo puzzolente come da un fumaiolo accanto c'era il cliente dagli occhiali azzurri che urlava arrabbiato sciocco imbecille asino ti do una lezione truffatore hai preso l'ordinazione due settimane fa e gli stivali non sono ancora pronti pensi che io abbia il tempo di venire da te per gli stivali cinque volte al giorno ma scalzone animale fiodor scrollò il capo e riprese a lavorare agli stivali il cliente bestemmiò e minacciò ancora a lungo quando finalmente si fu calmato fiodor chiese con aria cupa voi signore che mestiere avete fabbrico e bengala e i razzi sono pirotecnico le campane chiamarono al mattutino fiodor consegnò gli stivali ricevette i soldi e si recò in chiesa in strada le carrozze e le slitte con i copripiedi di pelliccia d'orso andavano avanti e indietro sul marciapiede assieme al volgo camminavano i mercanti signori gli ufficiali ma fiodor non li invidiava più e non si lamentava della sua sorte ora gli sembrava che fosse ugualmente dura sia per i ricchi che per i poveri i primi hanno la possibilità di andare in carrozza gli altri di cantare a tutta voce di suonare l'armonica ma nel complesso a tutti tocca lo stesso la stessa tomba e nella vita non c'è niente per cui valga la pena di dare al diavolo anche solo una piccola parte della propria anima grazie a tutti 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 grazie a tutti